Ben trovati al meteo. L'alta pressione che ci accompagna da giorni sarà insidiata da correnti più fresche ed instabili provenienti dall'Atlantico. Il nostro territorio sarà toccato solo marginalmente. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 15 settembre. Sul Veneto prevale un tempo asciutto, tuttavia in mattinata il cielo risulterà piuttosto nuvoloso e coperto. Maggiori spazi di sereno a partire dalle ore pomeridiane quando sui monti non si esclude anche qualche locale piovasco. Temperature in lieve calo, minime tra 16 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 25 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui alternanza di nuvole e rasserenamenti un po' per tutto l'arco della giornata, sia pure senza piogge. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 25 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove il cielo anche in questo caso risulterà a tratti nuvoloso con isolati acquazzoni ma anche con qualche schiarita soleggiata. Temperature minime intorno ai 17 e 19 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.